Questi sono degli eventi, delle manifestazioni di amore verso sia la Chiesa che in centro, ma soprattutto anche per il nostro Paese, il voler creare una sinergia con tutta la comunità, una sinergia con l'attività amministrativa, ma soprattutto una sinergia con la comunità. Noi parliamo sempre di comunità, non parliamo mai di persone singole o di singolo gruppo, ma sono i gruppi che si uniscono, formano una rete e la rete è quella che poi ci può portare, la rete che ci accoglie, una rete di affettuosità, una rete di amicizia, una rete di solidarietà. E questo possa essere considerato una iniziativa solidale, di solidarietà, che unisce, i gruppi si uniscono, i gruppi lavorano insieme e il lavorare insieme, il generare idee, non sono solamente le idee del singolo, ma sono idee che vengono sviluppate, pensate e soprattutto create ad arte.